Siamo con la dottoressa Carlotta Vazzoller che ha organizzato Padova al Barco Teatro Archeo City Frammenti di Memoria con Stefano Boato e il contributo di Antonio Prà. Dottoressa, il senso di questo evento? L'idea è quella di far dialogare due artisti in una città, in una città che pullula di storia. Quando gli abitanti, diceva Setti, si dimenticano e quindi non hanno più la memoria di sé, ecco che le città muoiono. Quando invece le città ricordano il passato e su questo pongono le loro fondamenta, ecco che allora la città può evolvere. L'ispirazione nasce da una riflessione sulle nostre città e su come noi pensiamo che queste città possano evolvere. Questi elementi presi, recuperati diventano una sorta di plastico, qualcosa che ricorda e che assomiglia a una città. Una volta steso un velo di colore, questo elemento viene decontestualizzato e prende un'altra forma, prende un'altra vita e diventa qualcosa che può farci riflettere sull'essenza della città, dove vogliamo andare e come noi pensiamo che queste città possano in qualche modo evolvere. All'interno di questi elementi, che vengono in qualche modo cristallizzati dal lavoro di assemblamento che io faccio, alla fine rimane un elemento di memoria, conservato, verrà conservato per sempre. Quindi mi interessa questo elemento della memoria delle città. Oggio sviaggio verso l'ignoto è un romanzo del genere thriller, mistero, avventura, che si sviluppa tra l'Inghilterra, la Saka Yakutia, siamo in Siberia nord-orientale, e la Svizzera. Nasce dalla mia passione per l'archeologia e i misteri delle antiche civiltà ed infatti all'interno del romanzo il tema principale è quello di una scoperta eclatante che potrebbe cambiare per sempre la concezione stessa che noi abbiamo delle civiltà che ci hanno preceduto e quindi dell'evoluzione del genere umano. Un'antica leggenda siberiana che parla di una guerra avvenuta in un remoto passato tra l'eroe buono, tra una fazione del bene guidata dall'eroe buono Nurgum Butur che è riuscito a sconfiggere un invasore, un demone, chiamato Tong Durai che voleva assoggettare e conquistare i popoli della terra. Quando io immagino una scoperta eclatante nel campo archeologico che porti alla luce una città e magari le vestigia di una misteriosa e sconosciuta civiltà, l'immagine che mi si materializza di fronte agli occhi è qualcosa di molto simile alle opere che produce Stefano. Benvenga il contributo degli artisti, in questo caso di Stefano Boato, che si domanda, che si chiede, che si interroga e quindi lascia anche a noi questa possibilità di domandarci e interrogarci il senso del vivere all'interno delle nostre metropoli. Bene, ecco ricordiamo che l'iniziativa Archeocity Frammenti di Memoria viene svolta a Padova al Barco Teatro fino al 6 settembre 2019.